Il tema degli anziani è il tema e sarà il tema del futuro, abbiamo una società che invecchia sempre di più e conseguentemente tutto questo si porta dietro a tutta una serie di tematiche, per esempio penso all'aumento delle malattie croniche, penso all'aumento del tema della notosufficienza e quindi questo ci chiede di rideterminare e riorganizzare i servizi in virtù del cambiamento della nostra società e delle nostre comunità. Questo vuol dire andare a rafforzare tutte le filiere e il sistema della cronicità, cosa che noi stiamo facendo con un piano sulla cronicità nuovo che coinvolga fortemente il territorio, vuol dire fare come abbiamo fatto anche un lavoro sul tema della non-notosufficienza e quindi dell'RSA, vuol dire aiutare e sostenere la domiciliarità, quindi un aumento di risorse anche attraverso il Fondo Sociale Europeo come abbiamo fatto per aiutare i percorsi dall'ospedale al territorio e aumentare e migliorare l'assistenza domiciliare, vuol dire anche mettere in atto tutta una serie di percorsi che siano più a misura di anziano, anche dentro gli ospedali, dentro il pronto soccorso, nei percorsi sanitari in generale. Quindi questo è quello che stiamo facendo attraverso anche la modifica del CUP che dovrebbe andare a regime tra non molto e che ci dovrebbe consentire di avere le prenotazioni nello stesso luogo dove ci sono le prescrizioni, cioè dove si prescrive e si prenota. Queste sono un po' di azioni che noi abbiamo messo in piedi, proprio a sostegno degli anziani e del tema della non-notosufficienza. Noi in questi anni abbiamo lavorato molto sulla tematica degli anziani a 360 gradi, sia per gli anziani autosufficienti che per gli anziani non-notosufficienti, cercando di mettere per quello che è di nostra competenza in campo azioni nuove, azioni a supporto degli anziani a 360 gradi. Ovviamente il tema delle barriere è un tema importante e tanto è stato fatto in questo mandato, soprattutto sulla riqualificazione delle periferie, sia da un punto di vista urbanistico, sia da un punto di vista di illuminazione per cui di conseguenza di sicurezza e di presidi sociali sui territori che sono qualcosa di estremamente importante. Ovviamente queste azioni stanno andando avanti, sia sul discorso degli abbattimenti delle barriere, siamo stati anche domenica scorsa insieme all'assessore Giorgetti e all'assessore Gionassi a fare proprio un giro per renderci conto di quelle che sono le barriere architettoniche ancora esistenti in città sulle quali bisogna lavorare. Dall'altra parte bisogna sensibilizzare la popolazione per evitare di mettere i mezzi in luoghi dove possono creare ovviamente problematiche. Detto questo, per quello che riguarda le deleghe di mia competenza, noi stiamo lavorando in maniera molto forte su tutto il tema sia della solitudine da una parte, lanciando progetti di compagnia per gli anziani, sia sul cercare di lavorare su sistemi che diano informazioni alle famiglie e agli utenti che siano informazioni sempre più fruibili in qualche maniera. Stiamo lanciando all'interno di Montedomi un progetto sull'Alzheimer per fare in modo che le famiglie si ritrovano un parente che è colpito dall'Alzheimer possa riuscire a avere orientamento nella città per muoversi sui servizi e dall'altra parte abbiamo un protocollo che è stato siglato con i sindacati, un confronto costante con la società della salute per mettere in campo azioni sempre nuove. Grazie alla collaborazione con i sindacati siamo riusciti a mettere in campo anche quella che è l'assistenza domiciliare integrata che era un tassello fondamentale che doveva partire nel nostro sistema. Oltre a questo abbiamo implementato risorse per le cure familiari, per quei familiari che hanno all'interno della propria abitazione un familiare. È ovvio che queste sono azioni che devono essere incentivate in maniera sempre più forte.